Bene ciao a tutti bentornati in questo nuovo video oggi andiamo a parlare di routine qual è la mia routine di trading su bitcoin cosa mi piace fare qual è il tipo di trading che prediligo i pro e i contro e come imposto questa strategia bene ragazzi è un momento molto bello per quanto riguarda i traders del mercato delle criptovalute ci sono veramente tante opportunità che il reccia da chiusura di questo nuovo anno in tantissimi mi chiedono però molto spesso qual è il tipo di trading che è migliore per ognuno di noi ragazzi non c'è una risposta effettivamente valida cioè non esiste una tipologia di trading adatto per ogni trader ognuno un po ha il suo trading quello che predilige in base a quelle che sono gli impegni personali poi la propria emotività il proprio capitale è un po anche il proprio talento quello dove si è un po più portati ho deciso perciò in questo video di farvi vedere la routine della strategia di trading che utilizzo io soprattutto negli ultimi anni per fare trading di natura discrezionale su bitcoin è quella che prediligo per una serie di motivi che andremo scoprire in questo video andiamo anche a utilizzare la nostra piattaforma prime ragazzi la piattaforma che utilizzo per fare questo tipo di operatività ho parlato della piattaforma di prime xbt diverse volte ragazzi e trovate anche nel mio canale una serie di video comprese video di recensioni con tutti quelli che sono i vantaggi e gli svantaggi di piattaforme del genere intanto è la piattaforma che mi consente di utilizzare bitcoin come valuta per fare le mie operazioni di trading e questo mi consente in un mercato rialzista come quello attuale di guadagnare in pratica due volte ragazzi perché si va a fare profitto sia relativamente alle crescita di bitcoin che magari continua nel corso del tempo dei prossimi giorni prossime settimane a salire a fare nuovi massimi sia per le operazioni di trading che vengono proprio effettuate quindi si può fare in effetti il doppio del gain diciamo così un po non è proprio il doppio bisognerebbe fare il conteggio però è una piattaforma interessante da utilizzare perché vi dà la possibilità anche di usarla con i cfd relativi ai mercati hold e in generale ragazzi è veramente veloce immediata facilissima soprattutto per quanto riguarda la creazione degli ordini di stop e take profit per il singolo ordine cosa un po difficilotta per esempio da fare su alcune piattaforme di trading e degli exchange classici dove ad esempio quando avete un'operazione aperta non riuscita a posizionare stop e take contemporaneamente quando si fa trading bisogna avere veramente gli strumenti adeguati prime in questo caso ci viene incontro ragazzi come sempre una piattaforma senza kyc ormai lo sapete lo dico mille volte quando aprite utilizzate broker exchange di questo tipo legati ai fattori cripto ricordatevi sempre che si sta rischiando tutto quello che andiamo a mettere dentro perché non c'è il kyc e tutti i servizi cripto in generale ragazzi sono fortemente rischiosi quindi come sempre io non do consigli finanziari sul canale anzi vi metto lo stemmino dangerous alert per farvi ricordare come è importante sempre valutare la sicurezza tra le altre cose ragazzi vi lascio un link in descrizione per quanto riguarda prime xbt con una super promozione con lo sconto delle fee e dei coupon proprio per chi vuole iniziare a utilizzare questa piattaforma quindi trovate il link in descrizione ragazzi basta cliccare come sempre registrarvi inserite il coupon avete il super sconto sulle fee per il primo mese potete smanettare sull exchange e iniziare a capire come funziona e come poter utilizzare bene andiamo alla mia strategia ragazzi allora la strategia che prediligo in questo caso e che applico utilizzando appunto prime xbt è una strategia sul ciclo settimanale di bitcoin che cos'è un ciclo settimanale ragazzi sono dei movimenti di trend che avvengono più o meno nell'arco di una settimana 10 giorni solitamente questi movimenti di trend sono ripetitivi per quanto riguarda bitcoin perché prediligo il ciclo di natura settimanale ragazzi perché mi dà spazio per avere un andamento un trend profittevole da tradare quindi poter ottenere un game rilevante per il tempo speso davanti ai grafici come sapete bisogna sempre essere efficienti essere anche produttivi è il tempo che i trader spendono davanti ai grafici veramente a volte è eccessivo quindi ho scelto di optare per una strategia che è un po più rilassata ma nello stesso tempo ragazzi non lasciando nulla al mercato perché come vedremo oggi questa strategia comunque ci consente di fare anche un discreto profitto e in più ragazzi ci consente di preservare un capitale che i trader devono assolutamente preservare ma ve lo dico alla fine del video perché è una chicca ragazzi un piccolo consiglio che vi darò alla fine del video come imposto la mia piattaforma il mio workspace per creare la mia strategia di trading sui ciclo di natura settimanale time frame la prima cosa fondamentale da sistemare per quanto riguarda la il nostro work space il time frame che utilizzo in questo caso è un time frame da circa tra un'ora e due ore ragazzi bazzico all'interno di questi due time frame nella mia academy tra le altre cose questo tipo di attività viene svolta quotidianamente io pubblico tutti gli aggiornamenti che faccio su questa mia strategia ragazzi in nella academy trovate il link in descrizione ragazzi per chi ancora vuole entrare in academy al prezzo attuale perché il prezzo salirà da gennaio ormai lo sapete l'ho detto negli ultimi video per avvertire in maniera corretta tutti c'è stato un super assalto siete in tantissimi allora questa strategia la condividiamo ogni giorno ed è proprio quella centrale che andiamo a fare in termini di di trading discrezionale utilizziamo un time frame che è tra un'ora e due ore circa 90 minuti e poi utilizziamo lì un trading system che ci dà la possibilità di avere l'ingresso indicato da una macchina quando è il momento giusto di farlo allora vi faccio vedere intanto sulla piattaforma di prime come si imposta questa workspace impostate un time frame a due ore andate a inserire due indicatori che sono gli indicatori principali per capire come si sta muovendo questo tipo di ciclicità allora gli indicatori ragazzi sono due medie mobili sma classica settatele a 9 periodi ea 26 periodi queste medie sono di natura ciclica quindi andranno aggiornate di volta in volta quando cambia quella che la struttura ciclica del mercato questo è un lavoro che faccio io costantemente anche nella mia academy premium quando vado a pubblicarmi anche i nuovi grafici con chiaramente tutti gli aggiornamenti all'ultimo ciclo che abbiamo preso in considerazione in academy quando abbiamo fatto l'ultimo trading è stato fatto ieri sera proprio durante la mia live ragazzi erano in live con i ragazzi come squire stata una live bellissima eravamo tantissimi youtuber quindi li saluto comunque come sempre siamo divertiti e durante la live io prima della live ho fatto questi esperimenti in academy ho detto ragazzi andiamo long perché c'era un segnale e facciamo un long durante la live lo gestiamo l'ho chiuso un pezzettino questa mattina adesso vi faccio vedere ragazzi allora il mio tentativo con questo tipo di strategia è quella di andare a prendere questo tipo di ciclicità ragazzi ok questa è un ciclo di natura settimanale ed è il mio intento con questa routine con questa strategia andare a prendere trend che si sviluppano all'interno di questo timing sono circa dieci giorni in questo caso sa cerco un ingresso quando il ciclo settimanale va in sua nella sua struttura di conclusione e cerco un'uscita quando siamo troppo alti o quando il mercato mi dà un segnale di break delle medie e quindi mi dà pericolo a quel punto io esco chiaramente tutti questi conteggi ragazzi vanno fatti in base all'analisi ciclica anche ieri la struttura del del ci chiamava una fase di ripartenza di un trend che è avvenuta esattamente qui quindi dopo aver fatto un tentativo in questo primo punto di entrare long utilizzando uno dei miei trading system che usiamo in academy abbiamo rifatto la stessa cosa qui ragazzi questa operazione è stata chiusa in pari o il leggero stop poi dipende dal ritardo di ognuno questa qui invece è andata bene fare trading utilizzando questo tipo di metodologia è interessante perché vi dà una serie di pro ma anche una serie di contro ora li analizziamo pro di questa strategia di swing trading che poi si chiama così ragazzi allora intanto è lenta quindi non mi dà quel peso di stare davanti ai grafici tutto il tempo quell'ansia magari di vedersi le posizioni chiuse durante la notte tra le altre cose ragazzi in questo caso l'utilizzo della piattaforma prime è molto importante perché ci dà la possibilità di mettere gli stop e i take direttamente su un ordine che possono essere eseguiti in maniera automatica questo è fondamentale quando andiamo a utilizzare questo tipo di strategie bitcoin essendo open 24 h può darci l'uscita da una posizione anche mentre stiamo dormendo quindi l'utilizzo di ordini condizionati e avanzati che sono presenti su prime ci dà una grande forza aggiuntiva secondo pro di questa strategia ragazzi mi consente di cavalcare dei trend che sono ampi perché perché se andiamo per esempio utilizzare un time frame piccolino come un 5 minuti un 15 minuti spesso andate a guardare dei movimenti di prezzo ragazzi che non sono consistenti non ci danno veramente dei grandi margini di guadagno quando un trader fa un'operazione necessita di un trend ragazzi perché si può fare profitto soltanto quando avviene un trend sia se siamo al rialzo sia se siamo al ribasso ma se questo trend non avviene oppure il time frame che noi scegliamo è troppo piccolo per fare movimenti ampi guadagniamo troppo poco e quindi il gioco non vale la candela questo tipo di strategie ragazzi non vi fa andare in over trading vi fa fare poche operazioni e poche operazioni significa poche commissioni pagate ma ci sono anche dei contro a cui purtroppo dobbiamo prestare la nostra strada intanto non riusciamo a salire su tutti i trend tradabili e quindi spesso alcuni trend ci spuggeranno con questa strategia un secondo contro abbastanza importante è che entriamo quasi sempre un po in ritardo e usciamo quasi sempre un po in ritardo perché ragazzi quando allarghiamo la finestra dove fare trading è chiaro che dobbiamo allargare anche i livelli che sono di stop loss e di take profit così come anche i livelli di ingresso questo tipo di strategia per quanto sia estremamente funzionale da un punto di vista di profit perché ci dà spazio a livello di profitto di prendere trend di questa levatura ci fa anche entrare in ritardo faccio vedere un esempio in questo caso l'ingresso all'interno di questo di questa strategia è avvenuto più o meno intorno ai 24 mila dollari di bitcoin quando il minimo era avvenuto a 22 mila quindi c'è stata questa fetta di prezzo che viene ovviamente lasciata al mercato anche quando andiamo a uscire si perde la distanza tra il massimo e il punto di uscita perché noi siamo usciti quando c'è stato un break della nostra media blu che funziona in questo caso da trailing ed è avvenuto ragazzi un po distante dai massimi perché siamo usciti intorno ai 26 e 8 quando i massimi erano avvenuti a 28 e 4 lasciamo al mercato un pezzettino all'ingresso e un pezzettino all'uscita questa cosa è accettabile sì o no assolutamente sì ragazzi perché è il grande pro di strategia di questo tipo che poi le rende effettivamente realistiche stampatevelo in testa ragazzi ok strategie di questo tipo sono replicabili nel tempo quasi sempre i mercati ci danno spazio per poterle cavalcare e fare trend per esempio nell'ultimo anno utilizzando questo tipo di strategia nell'academy ragazzi con ovviamente tutti i sistemi di alert che abbiamo all'interno dell'academy premium con i train system che ci danno l'ingresso è a volte riuscita utilizziamo addirittura tre o quattro livelli di uscita scanditi dai nostri trading system siamo riusciti a realizzare tra il 3 e il 5 per cento medio per ogni swing di questo tipo su bitcoin questa cosa è replicabile assolutamente sì ovviamente ragazzi come sempre bisogna essere skillati nel trading e avere capacità e la formazione per fare questa operazione senza il tentativo spregiudicato di prendere massimi e minimi che poi è impossibile portate a casa il bottino e soprattutto conservate il vostro capitale emotivo ragazzi perché il trader ha il capitale emotivo ecco il tips che vi volevo dire alla fine di questo video tra tutti i capitali che i trader hanno cioè il capitale di tempo a disposizione capitale quello fisico quindi i vostri bitcoin e vostri euro da tradare esiste il capitale emotivo ragazzi non lo dimenticate un trader diventa vincente quando mantiene il proprio capitale emotivo o tutte quelle che sono le variabili emotive legate al trading e quindi più operazioni fate ragazzi più disperdete il vostro capitale emotivo con questo tipo di strategia la routine che applico praticamente ormai da più di un anno ragazzi il capitale emotivo viene preservato che è la cosa fondamentale va bene allora fatemi sapere cosa ne pensate voi di strategie di questo tipo chi la usa anche voi scrivete nei commenti qualche vostra esperienza personale come sempre noi ci rivediamo nel prossimo video lasciate mi piace iscrivetevi al canale ciao a tutti